ciao a tutti video acquisti veloce ho fatto un piccolo ordine da avon come vi avevo detto in altri video dove ho comprato alcune cose lo fa mia mia cognata e stavo guardando il volantino vecchio avevo trovato due cosine che che volevo e adesso vi faccio vedere innanzitutto ho comprato degli smalti perché non so vi avevo detto tempo fa che c'evo questo problema delle unghie qui sotto e praticamente sono venuta a scoprire che il problema è il semi permanente che non mi dà allergia mi dà insomma fastidio quindi non lo non lo posso più fare e quindi bisogna che prendo lo smalto normale adesso ritengo un attimo così le faccio un attimino ricrescere però nel frattempo c'era in offerta questi smalti qui sono smalti in gel allora ho preso questo emerald city non so se abbia un codice comunque si chiama così ed è questo bellissimo verde è un verde foglia molto bello che almeno a me piace poi ho preso quest'altro che si chiama moody che è questo grigio tortora questi li usa mica mia cognata lei c'ha le unghie messe per bene e li usa insomma molto bene ho sempre usato quelli della essence questo qui invece si chiama hidden clouds ed è un grigio molto molto chiaro quindi sono questi tre che mi piacevano in particolar modo poi ho preso questo fard questa cipria compatta scusate perché come sapete e io ho il come si chiama oggi proprio ciò mi perdo nelle parole e il fondotinta ecco non lo uso perché comunque non ho problematiche al viso e quindi uso sempre una una cipria giusto per uniformare il colore perché avendo la pelle chiara ho problemi di cuperose e non ho mai utilizzato qualcosa in particolare mi ero trovata adesso ultimamente bene con uno della della chicco che però era di una collezione particolare quindi presumo non ci sia più però non potendo andare in negozio a ricercarlo ho optato intanto per provare questo qui dell'avol che è un colore medio perché non prendo quello chiaro perché sennò già che sono bianca e dopo divento proprio trasparente vedo qui un codice f 080120 e comunque marchio color trend ed è questo qui prima lo avevo aperto non mi si apre più ok c'è qui la sua spugnettina e questo qui è il colore che come colore medio è comunque abbastanza scuro cioè almeno eccolo qua adesso lo proviamo ma non neanche tanto perché tende adesso qui non si vede però mi va a coprire non si vede la differenza di colore quindi può andare bene è opaco prendo sempre quelli opachi e non mi dispiace adesso vediamo quell'andare del tempo allora prezzi questi qui erano in offerta 2 euro e 99 però se ne prendevi tre ne pagavi due quindi uno l'ho avuto in omaggio e questo qui non mi ricordo se 4,99 o 5,99 e poi ho avuto un po' di campioncini vari allora ho avuto questi tre che mi sono già preparata qui la mia scatolina ho questa scatolina del cap che sarà vecchia di decenni con tutti i vari campioncini quindi tutte le varie cosine quindi lo andrò a mettere qui e vediamo un po' che cosa sono allora questo qui vabbè ma non dice boh ah si ok questo è il profumo Havon Hair Story vediamo un po' com'è questo mi ricorda un sacco i trucchi quelli da bambina quelli che avevamo noi una volta e quelli che magari li prendevi a Luna Park quando andavi a fare la pesca che uscivano quasi sempre fuori era quel cofarento piccolino tutto rosa e mi sa tanto di quell'odore lì cioè per dire quindi questo questo che si chiama appunto quindi non è che mi piace più di tanto e che vi dicevo si chiama Hair Story poi questo qui invece si chiama vediamo se non leggo niente Mystic Amber vediamo un po' questo è buono questo è molto dolce dolce mi dà l'idea tipo di Ribes è un qualcosa di fruttato buono però Mystic Amber adesso questo lo circo poi abbiamo questo qua che dovrebbe essere Far Away esatto che questo dovrebbe essere buono mmm buonissimo questo lo so che è buono perché l'ho preso proprio la confezione quella intera quindi buonissimo poi un rossettino vediamo un po' il colore è un rossetto Aventrue è un lipstick matte rouge il colore è anche molto bello vediamo un po' mamma mia sa di fragola sa tantissimo di fragola comunque è bello come colore questo poi infine ho avuto questo qui A New Skin Reset Plumping Shoot non capisco se è una maschera una crema vediamo in italiano è un siero ah beh così è un siero non dice nient'altro quindi è un siero siero viso e boh lo proveremo mmm stavo guardando ingredienti non sono neanche male non vedo nulla di strano a parte l'ultima voce che è l'alcol però vuol dire che l'ultima voce è quello che ne contiene di meno quindi non è proprio bollino verde proviamo un bollino giallo a questo però sinceramente non l'ho mai visto né sentito e lo andrò a provare niente volevo solo giusto farvi vedere questi acquisti e ho fatto un video pubblicato proprio prima riguardante un tag di Tiger se vi interessa andatelo a vedere niente questo è tutto un bacione grande ciao ciao ciao